Un giorno importante, un nastro bianco oggi all'ingresso della nostra emittente Telesveva. Il collega giornalista Emanuele Losapio ha preso in sposa la dottoressa Katia Papa. Entrambi di Trinitapoli hanno scelto la bellissima cattedrale di Trani per unirsi in matrimonio e queste sono alcune immagini che abbiamo girato questa mattina durante la celebrazione. I colleghi della redazione, gli operatori, i registi, gli addetti agli uffici amministrativi e commerciali di Telesveva, i tecnici di Messo in Onda augurano alla nuova famiglia Losapio fortuna e serenità.